Molti italiani si aspettavano dal nuovo DPCM del Presidente Conte maggiori concessioni, così non è stato tra le concessioni la riapertura dei parchi, delle aree verdi nelle città, il tutto però a discrezione dei sindaci che devono poter garantire le misure di sicurezza. Il decreto di ieri lo stiamo approfondendo, stiamo valutando assolutamente tutte le misure e gli spazi di azione da parte dei comuni e dei sindaci. È un decreto che, come diceva lei, mantiene un principio molto prudenziale, quindi con la gradualità delle riaperture. Sui parchi c'è sicuramente un'opportunità che deve consentire a noi sindaci di valutare una riapertura nel rispetto delle regole. Lo stiamo facendo anche perché riteniamo che ci siano degli spazi che debbano consentire, nelle forme che rispettino le misure di sicurezza legate al tempo che viviamo, assolutamente ai nostri cittadini di poter recuperare degli spazi e dei tempi che in questo momento, e sono stati bravi, sono stati costretti a comprimere. Ovviamente pensando in primo luogo anche ai nostri ragazzi, ai nostri bambini, insomma, che hanno pagato fortemente questo periodo e lo stanno pagando ancora. Sindaco, lei durante la presentazione dei lavori di Corso San Giorgio ha fatto un discorso sulla bellezza della nostra città, la bellezza di Teramo, che paradossalmente si sta riscoprendo proprio in questo momento in cui le strade sono vuote. Sì, stiamo scoprendo la bellezza in un momento in cui la città è vuota, in cui possiamo apprezzarla veramente nella sua totalità. Questo è un messaggio che dobbiamo cogliere anche adesso per la riapertenza della fase 2, chiamiamola così. Stiamo discutendo dei lavori di Corso San Giorgio, noi abbiamo rimesso assolutamente in carreggiata un procedimento che rischiava di lasciare una ferita aperta ancora per molto tempo per la nostra città. Dovremmo intervenire adesso con gli arredi, siamo pronti con la sistemazione dell'area dopo i lavori dell'altra parte del corso, con la perizia di variante che abbiamo approvato e il messaggio è questo, quello che dobbiamo cogliere. Dobbiamo tutelare l'immagine della nostra città, l'aspetto estetico, la valorizzazione della bellezza, di tutto il patrimonio storico e culturale che la città porta con sé, il centro storico e farlo appunto con grande senso di responsabilità. Questo è uno dei punti fermi per il rilancio della nostra città e ne sentiamo forte la responsabilità, ma con le azioni che stiamo mettendo in campo stiamo andando proprio in questa direzione.